Di Francesco Muzzioli, L'epore bomba Marciam contro Saddam, facciam affette un tiranno all'anno, hanno a morire l'Islam coi suoi imam, sappiam che l'ire all'ordanno e malanno vanno rette. L'Iraq, malgrè Shiraq, al crack si mette a sua pena più piena appena il Sire, porca Baldrach, si spaccia in bacciaire, lo sderena serena iena e dismette. Eca tombe con bombe incombe guerra, ed i vili civili a chili in terra, petroli in monopoli, soli in zona. Colombe in tombe cui le trombe sona, poi i vili barili ai sili stipa, voli dai poli ai moli, ora straripa. Grazie. Grazie.